Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 17 ottobre, sono le 15.19 e manca pochissimo l'apertura del Nasdaq. Prima che arrivino le 15.30 e che si apra con Future a rialzo, facciamo il punto della situazione. Allora, per quanto riguarda quello che era l'indicazione che avevo dato, era questa, non so se ve la ricordate. Quindi, rimbalzo e poi discesa. Che cosa è successo? Abbiamo fatto il rimbalzo con la bull trap che avete appena visto e poi siamo andati a fare una discesa. Adesso, dato che da questo minimo a questo minimo ci sono 81 barre, ovvero siamo all'interno di un trimestrale fatto a tre tempi. Quindi, primo mensile, secondo ciclo mensile, terzo ciclo mensile, vogliamo andare a vedere che cosa sta partendo da questi minimi, che cosa può partire da questi minimi. Perché per ora, sia il fatto che questo ciclo trimestrale, prima di vincolarsi a ribasso, sia rimasto parzialmente sopra questo minimo e abbia violato questo swing, ci dicono che qui è possibile che sia partito già un annuale ciclico su Nasdaq completamente vincolato a ribasso. Ovvero, rimbalzo per un nuovo T più 3, T più 4, T più tutto quello che volete, discesa molto più in basso. Rimbalzo del gatto morto, discesa ancora più profonda e così via. E adesso arriva il tempo più interessante per guardare i grafici. Sapete qual è? E' quello per cui, dal rimbalzo proprio capiremo, se da qui è partito davvero un annuale o se questo è stato un raccordo. Tra che cosa? Se di grado T più 3 trimestrale è stato tra un biennale e un altro biennale. Il primo biennale è questo, ed è quello che è partito dal marzo 2020, non sto a rifarvi la solita tiritera. Questo sarà un raccordo, sarà effettivamente il nostro annuale già vincolatosi a ribasso e che continuare a scendere come minimo per 192 giorni, meno gli 83 passati, ovvero 109 giorni, piuttosto che 256 meno 83, piuttosto che 336 meno 83. Ribadisco, inizieremo a breve a controllare gli swing. Quando andremo in violazione di questo massimo, avremo già delle indicazioni. Se violeremo questo massimo o questo massimo, altre indicazioni e così via. Per questo motivo è importante adesso vedere quanta forza va al rimbalzo, se ci riporterà appunto verso la media mobile a 50 periodi, se la bucherà e se andrà a finire oltre, perché vi do un'informazione semplice semplice. Se supereremo questo massimo a 13.720,91, da qui sarà partito il vero annuale, che bisognerà vedere, che forza avrà e se sarà anche un biennale. Mentre invece, purtroppo, se non torneremo mai qui sopra, non avremo la conferma di nulla, se non della partenza di un t più 3, ovvero di un trimestrale, il secondo del semestrale e annuale partito da questo minimo e già tutto vincolato al ribasso. Quindi, per questi giorni che cosa facciamo? Innanzitutto vediamo quanto si rimbalzerà. Poi, altra cosa importantissima è capire, il mensile inverso si è chiuso qui, dopo le 24 barre, e quindi è abbastanza libero di muoversi, ma di non fare cose particolari. Oppure, si è chiuso qui, a 35 barre, poi è partito non soltanto un nuovo t inverso, ma un nuovo t più 2 inverso, e se supereremo questo massimo a 11.660 punti, vincoleremo tutto il movimento a continuare a salire e a cercare i massimi. Capite quanto è importante l'evoluta? Con un solo massimo violato ci dice per quanto altro tempo potremo continuare a salire e a continuare ad aggiornare i massimi. Ma questo ve lo dice soltanto l'evoluta, perché l'evoluta incorpora lo studio dei volumi e degli swing. Se sentite parlare di swing fuori da questo canale, sappiate che è possibile che non siano swing che abbiano in qualsiasi senso, e che non siano magari quelli che troverete su questo canale, perché l'evoluta è un mio parto a partire da tante cose, tra cui analisi tecnica, indicatori, candele giapponesi, volumetrica, ciclidhurst, teorie di Gunn e tanto altro. Vi ringrazio per il vostro tempo e vediamo quanto rimbalzeremo e se ci vincoleremo a ribasso d'inverso, ovvero a salire, e fino ad ora arriveremo a salire. Buona giornata a tutti, arrivederci!